Il clavoroso finale della seconda stagione di Loki porterà un grandissimo impatto sul futuro dell'MCU ma andiamo a scoprire insieme quale sarà questo impatto e cosa potrebbe riservarci il futuro dei Marvel Studios Per prima cosa ragazzi ovviamente dovrò fare spoiler della seconda stagione di Loki per parlare un po' nel dettaglio e cercare di capire insieme cosa potrebbe riservarci il futuro dell'MCU e se quella luce in fondo al tunnel portata proprio dalla stagione di Loki che vede protagonista Tom Hildestone potrebbe essere effettivamente un faro di speranza per una rinascita visto il drastico calo della qualità dei film successivi a Endgame Partiamo perciò dal finale della seconda stagione di Loki e cerchiamo di capire cosa è realmente accaduto In poche parole capiamo come Loki riesce a fare i salti temporali e ha acquisito un nuovo potere quindi riesce in questo modo a balzare nel tempo e nello spazio riesce quindi a far esplodere il macchinario che protegge ed elimina le diverse linee temporali che si formano oltre alla sacra linea temporale in quanto quest'ultima è appunto l'unica e sola linea temporale concessa soprattutto da colui che rimane interpretato da Jonathan Mayors Loki arriva a questa conclusione in quanto proprio il Kang di Mayors mi fa capire che o deve uccidere Sylvie prima che uccida lui in modo da evitare le diverse formazioni di altre linee temporali o altrimenti dovrà far in modo che si creino diverse linee temporali ed in questo modo però si andrà verso la distruzione totale come appunto sottolinea colui che rimane perché si formeranno altri Kang ed altri universi che andranno poi a scontrarsi portando quindi la distruzione dell'intero multiverso e non solo di metà di esso quindi la minaccia di Kang in questo momento è la più alta anche di Thanos questo perché Thanos aveva sempre minacciato di uccidere metà dell'universo invece in questo modo si distruggerebbero diversi universi azzerandoli completamente ok ora ricordandoci questo e tornando al finale dove vediamo Loki che appunto distrugge quello che la TVA aveva iniziato a costruire e riesce a far vivere contemporaneamente diverse linee temporali capiamo che Loki è il custode del tempo quindi molto probabilmente non vedremo almeno per il momento il ritorno di Tom Hildestown nei panni del dio dell'inganno qui c'è diciamo il primo snodo fondamentale perché sarà un addio al personaggio dopo 14 anni nell'MCU già nelle battute finali della stagione vediamo come questa scelta presa da Loki ha cambiato drasticamente il multiverso infatti da una conversazione tra Mobius e B-15 capiamo che una delle tante varianti di Kang ha già iniziato a muoversi ed è quella che abbiamo visto in Ant-Man and Basp Quantumania infatti c'è proprio una citazione a quello che è successo nel film con protagonista Scott Lang infatti Mobius chiede alla gente se si hanno notizie delle varianti di Kang ancora in circolazione e lei risponde che sì c'è stato un problema in terra 616 ma è stato risolto da gente del posto quindi è evidente il collegamento con Ant-Man and Basp Quantumania quindi molto probabilmente ce ne saranno molti altri e non vedo l'ora sinceramente perché a quanto abbiamo capito questo sarà lo snodo principale della fase multiversale e visto che è accaduto in una serie ora le serie a maggior ragione dopo WandaVision prendono un'importanza fondamentale per l'MCU il primo collegamento che abbiamo nel prossimo futuro è l'unico film in uscita per il 2024 che quindi adesso prende un'importanza fondamentale già sapevamo che Deadpool 3 sarebbe stato incentrato sul multiverso e quindi molto probabilmente avremo la prima minaccia di Kang ed è inevitabile che si inizi proprio da questo film a formare i nuovi Avengers che vedremo in Kang Dynasty che affronteranno il nemico che controlla il tempo quindi con Deadpool e molto probabilmente la TVA protagonisti del film ne vedremo delle belle soprattutto proprio perché il mercenario chiacchierone ha molte probabilità di essere il pilastro fondamentale per il 2024 dei Marvel Studios in quanto l'unico film in uscita e programmato appunto per il prossimo anno è proprio Deadpool 3 con i prossimi Avengers alle porte e quindi oltre a Kang Dynasty anche Secret Wars si porterà infine ad un cambiamento di base nell'MCU in quanto si parla, è un rumor che gira da molto tempo di un soft reboot, di un nuovo ricasting per altri attori che interpreteranno magari personaggi già visti come magari un Iron Man o un nuovo Capitano America con multiverso possiamo pensare a ciò che vogliamo sicuramente arriveranno altri prodotti su Disney Plus il prossimo oltre appunto a Deadpool 3 al cinema sarà Echo che arriverà fra un mesetto circa proprio su Disney Plus non credo che avrà un impatto importante su questa macro trama universale ma getterà le basi probabilmente per altri personaggi futuri che vedremo in arrivo prossimamente appunto nell'MCU uno fra tutti e non vedo l'ora devo essere sincero ovvero Daredevil insomma ragazzi l'impatto di Loki 2 è stato veramente importante abbiamo molto probabilmente avuto l'addio finale di Tom Hiddleston al ruolo del dio dell'inganno ed è qui che mi piange un po' il cuore perché è evidente quanto questo personaggio mancherà all'MCU spero di rivederlo e credo sia la scelta più logica in Kang Dynasty dove lui che ha iniziato la guerra multiversale creando milioni di linee temporali potrà essere soltanto lui a chiudere questa parentesi e chiudere quindi questo cerchio definendosi infine l'eroe che tutti meritiamo definendosi infine l'eroe che tutti noi meritiamo ragazzi ho provato a fare un po' di chiarezza spero di essere stato conciso e soprattutto comprensibile quindi vi ringrazio per avermi seguito fin qui vi ricordo di iscrivervi al nostro canale di mettere mi piace al nostro canale YouTube e seguirci come nei link in descrizione sui nostri cani Facebook e Instagram io vi ringrazio nuovamente da Ciacchiazione e da Valerio Perrone ciao a tutti